Bilancio positivo perché sono aumentati in modo esponenziale le aziende che hanno utilizzato Veneto Promozione per accrescere le loro capacità di conquistare i mercati esteri. Siamo riusciti anche a produrre tantissime iniziative che riguardano il turismo, quindi l'attività di promozione turistica è quasi sicuramente svolta attraverso Veneto Promozione. Devo dire che quello che abbiamo in servo anche per il futuro sono delle attività sempre di maggior concertazione su quelle che sono le necessità delle aziende per continuare a crescere nell'esportazione e quindi l'abbinamento della Regione e l'Unione delle Camere di Commercio in questo caso hanno dato sicuramente dei dati molto importanti e positivi. In che modo esiste il coordinamento con le Camere di Commercio? La Camera di Commercio è la sintesi della rappresentanza delle aziende perché all'interno della Camera di Commercio si ritrovano tutte le categorie e quindi oggi la Camera di Commercio, dal punto di vista istituzionale, sono gli interlocutori primari per la Regione per quanto riguarda le attività sia a livello locale che per quanto riguarda le attività sui mercati esteri. Alcune Camere di Commercio hanno le loro agenzie che non sono sovrapposte all'attività di Veneto Promozione ma sono delle attività che vanno condivise e possono essere implementate, possono essere complementare attività di Veneto Promozione. Union Camere del Veneto abbiamo capito che crede fortemente nel progetto di Veneto Promozione. È accaduto da sempre, adesso io sono Presidente da un mese, quindi proprio oggi crediamo sicuramente, tutti i Presidenti di Camere di Commercio del Veneto sono convinti che questo sia uno strumento fondamentale che è necessario per questa Regione, per queste imprese che, dobbiamo ricordarlo, questa Regione è ancora la locomotiva d'Italia, lo è, quindi sta funzionando, abbiamo imprese di altissimo livello e di qualità, molte piccole e medie imprese che da sole non ce la fanno andare in giro per il mondo, questa è la grande occasione, questo è uno strumento fondamentale. E quindi io credo che Regione e Union Camere insieme, rafforzando questa importante agenzia, possa dare un servizio importante e all'imprese e al territorio, ma anche far conoscere questo territorio nel mondo perché ha delle capacità di innovazione uniche. Il 10% del fatturato della sua azienda l'ha realizzato grazie all'estero e quindi alle emissioni, di Veneto Promozione, è contento? Immagino di sì. Sì, siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuti, certo che questo 10% non è che sia derivato dalla lampada di Aladino, nel quale che è Veneto Promozione, la strofina ed esce il fatturato. Veneto Promozione ci mette in contatto, ci apre le porte del mercato, ci fa conoscere gli imprenditori che potenzialmente possono fare business con noi. Qua poi c'è bisogno dell'azienda, l'azienda deve essere strutturata e grazie a Dio, grazie alle nostre maestranze, idrobase lo è. e quindi questo ha permesso poi di poter coltivare questi contatti fino al punto di produrre i frutti e i frutti sono al fatturato.